Il mistero della materia, la sua insondabile malleabilità che la scultura prova a codificare ogni volta in modi diversi. Stefano Soddu porta a Milano, nello studio Museo Francesco Messina nella chiesa sconsacrata di San Sisto, una mostra che ripercorre la parte più recente della sua carriera e che indaga i modi in cui il lavoro si confronta con lo spazio fisico e sentimentale. L'ho chiamata geometria del ferro in quanto il ferro è un materiale comunque molto d'utile, è pesante ma nello stesso tempo ho cercato di rendere la leggerezza del ferro attraverso alcuni sistemi, per esempio appendere del ferro alle pareti in maniera che siano quasi sospesi nell'aria. Ci sono 24 opere degli ultimi 20 anni dove oltre il ferro ho cercato anche di rendere, oltre alla leggerezza, anche il senso dello spirito, dell'anima. Le opere chiedono allo spettatore di stabilire una relazione, la loro natura incerta porta a riflettere, a soffermarsi, a cercare territori ulteriori che poi sono quelli proprio di una scultura consapevole della storia e consapevole anche del luogo che la ospita, ossia un museo dedicato a un altro grande artista plastico. Ma le sensazioni che nascono dal lavoro di Soddu vanno oltre alla semplice geometria del titolo per aprirsi alle possibilità altre, a quel divenire imprevisto che l'arte talvolta può innescare. L'abbinamento tra il materiale duro del ferro e le polveri colorate ovviamente rendono non solo la leggerezza ma rendono anche l'idea della spiritualità. Una spiritualità che si alimenta sia dello spazio sia della natura dei singoli lavori che gavitano intorno alle contraddizioni tipiche della materia quando questa viene a contatto con la coscienza e con queste premesse la mostra geometria del ferro resta aperta al pubblico fino al 12 giugno.